Intanto è pronta Claudia Marletta che è stata proprio nominata miglior giocatrice di questa partita. Claudia ti aspettiamo proprio qui al microfono. Buonasera. Claudia, due reti di vantaggio dell'Italia, due reti che portano alla tua firma. Questa comunque una soddisfazione in una partita difficile. Sì, è stata una partita molto combattuta, lo sapevamo già. Però abbiamo tenuto testa fino alla fine e va bene così. Abbiamo costruito tanto in questa partita. Abbiamo costruito tanto in questa partita per cui questo ci fa onore. Per cui andiamo avanti. E' andata avanti, domani c'è la Slovacchia, è un cammino che si costruisce passo passo. Sì, esatto. Domani abbiamo una partita che è la Slovacchia con tutto il rispetto. Per cui la giocheremo anche questa con la stessa concentrazione. Fino arrivando al quarto, concentrate. Cosa vi siete detti tra di voi prima di entrare in acqua? Perché insomma con l'Olanda, lo dicevamo anche con Fabio Conti, è sempre un po' un derby. Sì, esatto. E' un bell'avversario l'Olanda. Per cui ci siamo dette di non mollare mai, di essere gringiose null'altro, di aiutarci soprattutto. E di essere pronte sempre in difesa, in qualsiasi istante. E questo è lo spirito che dovete ovviamente mantenere fino alla fine. Sì, esatto. Non molliamo mai, credo tanto in questo gruppo. Ognuna crede in tutte le cose. Per cui va bene così. Per te che esperienza è? Non avrei mai pensato di essere qui. Non avrei mai immaginato. Però ci sono, per cui spero di poter dare il mio contributo a tutte. Grazie. Grazie a voi. Dario Francesco.